E' il ragusano Andrea Licitra del Circolo Tennis in Ragusa il vincitore della terza edizione del torneo Open Maschile Memorial Giovanni Farinella. La manifestazione, organizzata dalla Tennis Club Sciacca e disputata sui campi in cemento di Menfi, ha confermato l'ottimo livello tecnico del tennis siciliano. Licitra ha superato in finale, con il punteggio di 7-5-6-2, il palermitano Francesco Mineo Mineo. Il torneo era cominciato lo scorso 3 ottobre ed aveva visto tra i protagonisti anche Mattia Ianni e Domenico Caracappa, atleti del Tennis Club Sciacca. In particolar modo, il maestro del sodalizio Saccense si era fermato soltanto in semifinale, superato dal palermitano Mineo Mineo, con il risultato di 6-3-7-6. Nell'altra semifinale, invece, il vincitore Licitra aveva avuto la meglio su Francesco Cardinale dopo una battaglia di tre ore per 4-6-6-2-7-5. Alla premiazione conclusiva sono intervenuti, tra gli altri, anche Franco Sclafani ed Enzo Colletti, del club Saccense. E passiamo alle arti marziali. La Karate Judo Club di Sciacca sarà presente domenica prossima ad Ostia Lido, presso il Palapellicone. Sarà in pedana relativamente al campionato italiano Filcam per la categoria Esordienti e per la specialità Kumite, Combattimento a contatto controllato, con gli atleti Alessio Nicosia ed Ignazio Raneli, i che saranno accompagnati dall'istruttore Michele Catanzaro. Proprio Catanzaro, il giorno seguente, nelle vesti di atleta, disputerà invece il campionato nazionale Master per la specialità Catà dopo uno stop agonistico di 18 mesi a causa della pandemia da Covid-19.